Buongiorno a te e a tutti gli amici di Missione d'Ascolto, Marina, insomma definiti, abbiamo detto anche nei titoli, gli ingaggi di Saccani, Cupone e De Marino. A centrocampo è saltato Samuele Simone della Latta, tra poco però ne parleremo. Ricordiamo le formule delle tre operazioni che sono state concluse ieri dal DS dell'Icari che rimarrà a Milano sino a domani. Il 21enne terzino destro Matteo Saccani, ex vice peso, arriva in prestito secco dal Sassuolo. L'attaccante Luigi Cupone, classe 97 dalla Cittadella, in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi, come abbiamo già anticipato, di una delle seguenti condizioni. 15 gol nel prossimo campionato per l'ex attaccante di Casertana e Potenza, oppure la promozione in Serie B del Delfino con il 60% del giocatore, appunto, della presenza del giocatore nel prossimo campionato. Dalla Juventus in prestito biennale il terzino sinistro Davide De Marino, classe 2000, cresciuto nella Provercelli da gennaio a giugno della scorsa stagione in prestito al Pisa. Scambio perfezionato con Lentella, l'attaccante Facundo Lescano al Delfino Clemenza al club Ligure. Le altre trattative si avvicina Davide Ghislandi, che è un terzino destro, classe 2001, lo scorso anno in grande evidenza nella Turris. 26 presenze per il terzino di proprietà dell'Atalanta. Dell'Icari ha già trovato l'intesa per il prestito secco col club orobico. Oggi vertice con l'agente del calciatore Fogaci. La chiusura sembra imminente. A centro campo, come detto, in apertura salta Simone Della Latta, malgrado l'accordo tra il Pescara e il suo procuratore, l'ex calciatore del Pescara Luca Puccinelli. Mai realmente convinto, il 29enne calciatore in uscita dalla Padova, di accettare la proposta del Delfino che gli offriva un biennale. Così oggi a Milano il DS Biancazzurro dell'Icari incontrerà Augusto Carpeggiani, procuratore del classe 95 Davide Mazzocco, il nome nuovo uscito nelle ultime ore, legato per un'altra stagione alla cittadella. Sono attesi anche in questo caso sviluppi interno di centro campo, meno incursore della latta, ma più tecnico. Mazzocco ha collezionato circa 130 presenze con il Padova, vincendo due campionati, quello di D nel 2015 e quello di C nel 2018. In B circa 80 presenze con il Padova, Entella e appunto Cittadella. Per il regista Salvatore Pezzella, ex Siena di proprietà della Roma, se ne riparlerà domani, ma non è esclusa una nuova pista, anche perché il giocatore classe 2000 aspetta una chance dalla Serie B. Poi la maxi operazione col Monza è stata di fatto conclusa ieri, ma la ratifica ci sarà lunedì prossimo. Sorrentino sarà ceduto a titolo definitivo al club Brianzolo, cinque anni di contratto per il classe 2002, percorso inverso per il centrocampista Lombardi, classe 2002, e per il portiere Sommariva, classe 97. Entrambi arriveranno a titolo definitivo al Pescara, invece il greco Sia Tunis, classe 2002, non ha ancora deciso se accettare la proposta della Pescara, ma comunque arriverebbe in prestito secco. Ieri, ricordiamo, Le Marche è stato ceduto ufficialmente a titolo definitivo al Padova, mentre per quanto riguarda le altre uscite, Cancellotti è sempre nel mirino del Gubbio. Di grazia piace al Cerignola e al Potenza, che è anche interessato all'attaccante Nicola Belloni, che lo scorso anno ha giocato nel Limolese, in prestito appunto dal Pescara. Per il momento è tutto, la linea torna a te Marina.